buongiorno buongiorno non hai parlato torniamo con un altro video su mirabilandia esploriamo la stagione 2023 ma come sempre non siamo soli tornano con noi beppe e dove sei jessica non ti vedo beppe terzo parco della sua vita sigla ci stavamo diventitendo una cosa abbastanza importante più del 50 per cento di voi che guarda i video non è iscritto al canale per voi non cambia niente per noi cambia tantissimo quindi iscrivetevi al canale e ora cominciamo siamo dentro siamo dentro allora esploriamo la stagione 2023 che come avrete visto da altri creator è partita lì con un po zoppicante oggi vediamo come sarà secondo noi dalle prime impressioni sarà una bella stagione cominciamo le donne che comandano il tutto hanno deciso di iniziare a portare beppe a dai vertica quindi lo facciamo iniziare subito con il botto o meglio col bagnato pronto a bagnarti sono prontissimo e mi devo cambiare però perché c'è i pataloni non c'è il costume e mi c'è la solita solpa di cambiarsi non cambiarsi io ho due abiti quello per la giornata e quello per bagnarsi perché bisogna essere asciutti lo spiego io c'hai i pimentali prima conferma di questa stagione l'exclusive experience uguale allo scorso anno hanno aggiunto però anche la possibilità di un ingresso a the walking dead la horror house di mirabilandia molto molto interessante molto interessante questa giunta hanno in cicciottito un po' il pacchetto che già merita così solo per l'esperienza a bordo con gli stand il spirito di osservazione di jessica si fa notare assolutamente subito le due statue nella piazza principale esatto hanno tolto le statue proprio per favorire la platea di peter pan the rocking quest'anno non si possono togliere le statue no 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 si può si può sia a favore della platea dai si può ci sta allora ci sta se così ci sta dai quest'anno pare ci siano delle novità parecchio parecchio interessanti ma vedremo stasera per quanto riguarda peter pan the rocking perché pare dagli spoiler che ce ne siano tre di overbordo fly board come si chiamano insomma quelli che hanno l'acqua che gli spara da dai piedi cambiamo andiamo a fare autosprash perché da vertical ancora chiuso si capisce dice non disponibile oggi non c'è bellissimo tempo quindi si però sta che che qualche attrazione siamo in un periodo e gocce siamo ragazzi 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 una targhetta quale quello abe ducati world anche se ecco non apriamo il capitolo ducati world perché beppe non lo sa l'area ducati è un'area molto discussa di mirabilandia perché desmo race purtroppo non funziona ancora non funziona anche se ci sono dei rumors e dei spoiler che potrebbe potrebbe riaprire qualcosa sappiamo però non si può ancora dire e potrebbe riaprire forse c'è una data che ufficializzeranno tra qualche tempo che sappiamo non possiamo si può speriamo perché desmo race è veramente veramente bella però per finire il racconto a beppe a tutti quelli che vedono e non sanno questa storia desmo race purtroppo è un'attrazione bellissima costruita apposta per mirabilandia però un sacco di problemi so io dico che ducati è bella però se ducati ci sente ma una ducati ponigale v4 si vabbè tu tutti i video chiedi qualcosa in prova in prova in prova chiedo per un amico chiedo per un amico che la piedi tu però questo dopo ci coinciamo due giri su auto splash fatti non c'era nessuno oggi il parco è vivibilissimo perché c'è pochissima gente dato il tempo mezzo mezzo beppe guardate beppe chi è che si ricorda il video di moviland moviland halloween oh sono giovine sono giovine piccolo spoiler giorno dopo c'è una febbre resisti per domani perché domani siamo di nuovo qua proseguiamo la giornata adesso vediamo come oggi ci saranno due show di hot wheel city viene alle 21 alle 21 quindi andiamo a vedere quello di sera adesso proseguiamo l'esplorazione del parco malsana idea di andare a fare ratonga si si bagna parecchio però vuoi che non portiamo il buon beppe a fare ratonga? posso fare il modello di Giorgio Armani così ma va 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 Giorgio Armani si senti? cioè tu sei scroccheda a livello allucinante lui ragiona che voi in teoria dovreste essere famosi quindi no non siamo famosi allora fate diventare famosi così iniziano le partnership noi prendiamo e testiamo quindi noi prendiamo e voi usate come sta cosa lei è la mia sorellina dolce cara la uso un pochino ratonga la facciamo ora come sapete mirabiland non vuole che facciamo riprese sopra le attrazioni quindi proviamo a farvi vedere qualcosa da fuori e poi vi spieghiamo ratonga per chi non la conosce verrà malissimo questa ripresa perché siamo completamente bagnati leggermente questo è l'effetto di ratonga però l'ha vinto le ragazze perché adesso sono più bagnati non so notate notate noi invece abbiamo fatto maschi contro femmine abbiamo perso miseramente mamma mia ci si bagna ratonga ci si bagna tantissimo ma è bellissimo ragazzi ci ricomponiamo riappariamo come avete visto abbiamo fatto un po di attrazioni è molto acquatico stamattina siamo sull'acquatico abbiamo fatto tutta l'acqua questa mattina così come sapete ci cambiamo perché abbiamo il doppio abito io sono un po fighetta come abbiamo trovato il parco nella prima metà della giornata bello come sempre l'unica cosa che secondo me hanno un po troppi problemi tecnici perché tutta la mattina che dicono che aprono dai vertica ma non lo aprono continui ci sono problemi a parte sennò che poi si blocca anche high speed sto calzatore di problemi quindi c'è ancora qualche problema voglio darmi informazione questo braccialettino qua serve per il passo delle foto della stagione o giornaliero diciamo che 25 il giorno e 35 il stagionale perché l'abbonamento ovviamente informazioni importanti che vi do adesso ogni giorno che venite qua al parco se siete abbonati in questo caso e avete l'abbonamento fotografico stagionale dovete chiedere ai punti fotografici o quello che c'è all'inizio del parco il braccialettino con questo potete prendere sia le foto che i video che ci sono sui speed e su cartoon piccola differenza di altri parchi l'abbonamento fotografico per valere diciamo per prendere le foto il video deve essere il proprietario quindi in questo caso se Michael vada solo e io non ci sono non può prendere la foto dunque la mattinata acquatica è andata adesso proseguiamo col pomeriggio una bella magnatina ma prima vi devo far vedere un regalo che ci hanno fatto gli amici di stand man show production questa mattina sono uscito dall'hotel non prendendo la mia solita maglia di ricambio cosa molto cosa molto strana perché io dopo cui sono bagnato devo assolutamente cambiarmi ci sono venuti in soccorso gli amici della stand man show production che grazie a davide fadovan marco giovane tutta la la squadra mi hanno regalato una splendida maglietta di blockbox e stand man show production che bello grazie è successa una cosa che non potrebbe succedere mai siamo qua e ci hanno fermato ci hanno detto possiamo fare un gioco insieme va bene tanto come ti chiami martina michael piacere piacere si fa con la sinistra ma la preoccupata è andata così allora le mie amiche carinissime mi hanno fatto pescare tra diverse foto dei miei ex per cui non vi posso far vedere la foto però vi basti sapere che già questo è particolare bene quindi io ho pescato questa foto e devo dire tre aggettivi che descrivono una persona ma solo uno di questi è vero se indovinerete l'aggettivo che lo descrive vi racconterò un aneddoto bellissimo e loro stai raccontando tutto il web però vai sentiamo gli aggettivi allora gli aggettivi sono geloso rigido fa vedere una foto vai aspetta dobbiamo guardare frigido geloso basic miseria sono indeciso tra geloso e basic l'accendiamo 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 basic basic l'accendiamo l'accendiamo perché tu immagina questa persona che si immagina perché la vedi che potrei essere io adesso vediamo l'aneddoto guarda di tutto il parco sei capitata proprio malissimo vai con le petta vieni 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 un po di tempo fa parecchio tempo fa una sera in cui ho dormito con questa persona diciamo dormito diciamo dormito però io abitavo ancora con mia mamma e mia sorella che è qua presente che si sta nascondendo ma insomma siccome noi eravamo persone molto responsabili abbiamo sempre usato dei contraccettivi ecco bra mi raccomando eh ma un suggerimento una volta usati questi contraccettivi vanno buttati e chiusi molto bene nascosti soprattutto se avete un cane no c'è il cane è andato in giro con il no l'ha tutto mordicchiato e l'ha spavagliato per il giardino e se ne accorta mia mamma cos'è questo cioè mole della mamma cosa fai di notte cosa fai un giro di tutti come vi chiamate margherita di cosa ce ne sono capitate tantissima ma questa è la più originale di tutte ciao pausa pranzo finalmente perché sto morendo di fame e con sui tu dire ormai allo scramble nella zona ducati con la mia cognatina annunciamo il momento tanto atteso andiamo a vedere hotwis dovevamo resistere fino a stasera alle nove ma alla fine tanto sai post pranzo stava proprio calzava pennello un po' di adrenalina con hotwis city la nuova sfida 2020 e ventitra ah 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 finalmente la luce e non nascosto di sotto aspettando un momento migliore per uscire ma lo sento in spia e tenuto sotto controllo e ora è arrivato il momento della mia vendetta hotwis city sarà mia forza mie creature fatemi sentire la potenza dei vostri motori l'argentino questa volta che sono sicuro la presto la presto la presto la presto la presto nella presto la presto nessun'auto della polizia può fermarli noi abbiamo la slide che cosa sarebbe sarebbe che basta qualche piccola goccia di questa sostanza nel loro serbatoio e subito la potenza dei motori aumenta al massimo è la giusta gratificazione per lo scorpione scorpione, scorpione su, 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 su si, questa è un'impresa da Gide buon record abbiamo perso ora se no lo prendono i più richiesti al mondo pronti a sboccare fuori? arrivano loro e sono i supereroi di All Queen City lo so avete visto le immagini della sera e siamo di nuovo di giorno e sono più fighe però questo è uno spettacolo numero uno al mondo perché loro sono gli stan più applauditi al mondo e si vede non gli piace mai adesso torna Beppe che è la prima volta che vede uno stan show era così tu che sei amante delle moto e dei motori ecco questa era la faccia di Beppe e tutto lo show a cercare di capire i modelli, le cilindrate, delle moto si è bello, molto bello molto molto, rimani così tutto il tempo quindi da uno a dieci non dieci è basso da uno a un milione due milioni già che stiamo nell'arena dello stan show se venite su alla parte più alta della platea e buttate uno sguardo dietro di voi dopo il cimitero degli elefanti c'è il cimitero delle macchine perché qua dietro ci sono cimili storici di scuola di polizia da la limousine un vecchissimo show quando c'era la delegazione americana che arrivava l'auto rossa che usciva il taxi che si divideva e poi qua sotto non si vede ma sempre correte questa strada uscendo quindi dalla parte sinistra uscite dalla parte sinistra e passate qua dietro sbirciate qua sotto ci sono tutte le auto di scuola di polizia che sono lì a prendere polvere più o meno perché poi la stan show production di merda un po' le usa e adesso portiamo i ragazzi a fare la sfida dei laser diciamo noi perché andiamo a vedere Reset perché è stato un momento ostico nell'apertura quindi andiamo a provare e vedere se funziona tutto bene 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 col Beppe il Beppe pensa a fare le sgume di tre secondi fa nooo nooo non si fa approfittiamo di questa cosa per ricordarvi con la bicicletta con la bicicletta si non imitate mai 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 quello che vedete nello show di Hot Wheels City perché è pericoloso sono stuntman professionisti quindi no provatelo a casa poi se proprio proprio volete farlo a casa con la biciclettina con la biciclettina o triciclo o triciclo oppure si può scrivere qua sotto c'è i contatti a Matteo Andrella stunt experience lui in sicurezza vi insegna come farlo in aria chiuse con macchine preparate e con un insegnante stratosferico che è Matteo quindi mi raccomando volete farlo? se può ma in sicurezza e abbiamo vinto noi ovviamente la palese quindi quindi i signorini ci pagano la merenda non è mai stata definita non abbiamo detto solo che non l'hai registrata non vuol dire che se non l'hai registrato non vale modestamente c'è noi 32.000 e 29.000 rispettivamente e loro 16.000 16.000 quindi cosa proviamo a far merenda? la cosa più cara che c'è esatto allora a parte ciò Reset funziona perfettamente per cui i bug di inizio stagione li hanno risolti per cui Reset tornata alla grande vi do un piccolo aneddoto su questo set qua su questo capannone che ospita la trazione di Reset vi ricordate Ciccio Graziani il Cervia il programma campioni è stato registrato qua dentro perché prima di essere Reset questo capannone era uno studio televisivo appunto che veniva utilizzato per la trasmissione campioni quindi Mirabilandi è stata anche set per la televisione andiamo mentre Jessica e Beppe sono apparsi il Die Vertical cioè ci hanno proprio abbandonato li portiamo qui con noi facciamo fare i giri tutto e loro ci abbandonano così appartamente c'è anche da dire che il Die Vertical ha aperto oggi pomeriggio e finalmente hanno risolto i problemi che aveva che aveva vabbè mentre li aspettiamo andiamo a vedere SpongeBob non so se c'è SpongeBob mi sa che c'è le tartarughe ninja no non voglio le tartarughe ninja l'area partnership Nickelodeon che c'era anche l'anno scorso ma non me l'abbiamo fatta vedere nel video io andiamo a vedere SpongeBob Patrick e mi sa che non c'è SpongeBob Patrick ma andiamo a vedere adesso che c'è io voglio le tartarughe ninja mi sono spaccato ossa che non credevo di avere a fare questa cosa purtroppo non ci sono le tartarughe ninja ma c'è Dora l'esploratrice adesso andiamo a Divertical ma dovete dirmi lo vedete il Divertical? Siete sicuri? ma io non lo vedo bravi ok basta questa è la pessima facciamo bene si è trasformata in Dora l'esploratrice ma vedi se cammini va vedi se cammini allora io l'anno scorso avevo preso la calamità di SpongeBob non vuoi prendere Patrick Mr. Krab Squiddy e io vado cattivo impressione a freddo fatto in prima fila è tosto è tosto no lo savo di più però avevamo però i piedi letteralmente a bagno adesso ci spostiamo nella zona del west e iniziamo con la gold digger prima lui ha detto i cestelli dei minatori va la l'abbiamo rifatta questa perché io avevo detto gold river non ha ben chiaro le referenze tra river e digger io sono litigato con l'inglese sono litigato basta basta sono litigato oh zio mio cosa ho scelto io nella vita e mi sto rovinando la vita sposandolo no non è vero non è vero no 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 ti piacerebbe povera cocca che sta a fare la parabola con lui poi se volete c'è sempre la sorta di horror house e come direbbe suo padre cacca casa arriva ora sta eeeh sempre delicato mio papà è sempre delicato però c'è da dire che non non lo so io non l'ho fatta o non la farò comunque io non neanche non la faccio perché poi c'è una cosa che io non concepisco la devi pagare esatto allora l'exclusive experience la devi pagare è anche cara però c'è un'assicurazione paghi un video paghi totalmente particolare con anche il livello assicurativo che per forza devi pagarla però questa è una horror house perché devi farla pagare in più per cui a prescindere non la farei mai a prescindere ma cagare infatti è arrivato il momento di fare il cat chiedere che abbiamo scese Che potete vedere dal video Abbiamo urlato Che in realtà sono quelli dietro che urlano No quelli avanti Quindi secondo me nell'altro video di quelli che eravamo dietro Ci sono le nostre urla Consiglio se potete fare la scenetta con il video Partiamo siamo belle Poi quando uscirete vi Parlate dalla salita in su Perché prima non riprende Quindi io ho fatto mezz'ora e si sono reso conto che Ha ripreso il po' Impressione a caldo E' adrenalinico senza ombra di dubbio Per uno che non ha mai fatto montagne russe Tu lo vedi da fuori e dici Oh cazzo sta roba di qua No è possibile Poi vabbè è soggettivo Ci mette tanto tempo a convincerti Però non è che sia tutta sta grande roba Cioè alla fine non ti rendi neanche conto che lo fai Cioè urli un po' Vavi un po' la voce Sei passato ad aver paura A essere tranquillissimo No ma non ero agitato Ma rifaccia il piacere E se il capitano Giacobuncino Avesse imparato a volare E' così che inizia la nostra storia In una serena e tranquilla Notte d'estate Dove sei? Spiocci una fatina a volare Vieni qui E ti spraimo come un limone Ti ho sorpresi E bene sì Posso volare anche Spugna Spugna Chi unisce a noi Capitano Eh va bene Ma solo per questa volta Show finale di Mirabilandia L'ultimo pan The Rocking Finito sempre di precisare le cose tu E così si chiama Bellissimo Cioè l'anno scorso Flyboard Quest'anno ce ne sono tre Perché c'è anche Spugna Io c'ho il dubbio che si chiami Flyboard Però Avete capito qualcosa Com'è che fa? Gli effetti sono Stratosferici Hanno aggiunto anche Le esplosioni Di fuochi d'artificio Prima e non solo alla fine Che c'è I megafuochi Ma anche durante lo show Ci sono Degli esplosioni Che enfatizzano Quindi molto 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 Bello Altra cosa che hanno rifatto Bellissima E' Matteo Che fa il submarine Con una moto d'acqua E devi fare sempre Il lavouche Eh se nell'acqua va Non è che posso fare così Eh va nell'acqua farò così Va bene Quindi hai provato Bellissimo E' uno spettacolo Emozionantissimo Venite sempre a serale Perché spacca veramente Ciao ragazzi Ciao Ciao Ragazzi del World E' vero comune Ciao A questa è la Mirabilancia Venite subito Come ti chiami? Ryan Ciao Ryan Iscrivetevi al canale Bravo Così si fa Bravo Ryan Tu iscrivetevi Ciao Ciao Siamo arrivati alla fine di questi due giorni Beppe è morto Sì, è proprio lì appoggiato Siamo tutti in K.O Ha detto una cosa fuori onda Qual è il miglior park? Quelli che hai provato? Questo Lo so che ci sono stati tanti video Online, tanti spoiler che Non tremiavano la stagione 2023 di Mirabilandia Ma superata la grande C'è solo qualche Hai speed da verniciare Vabbè, tu sei il pignolo Qualche tipo, ho fatto un esempio Desmo che non va, ma Desmo è nata male Quindi, se vi è piaciuto il video Mettete mi piace, iscrivetevi al canale Attivate la campanella E condividete Vai, a volontà E poi ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao